La Guida Piemonte ha apprezzato indirizzario che il Consiglio regionale da anni mette a disposizione dei cittadini piemontesi cambi a pelle e veste. La nuova versione digitale offre, oltre all'elenco degli indirizzi di enti locali, uffici pubblici, organi di informazione e organizzazioni, numerose funzioni. Ogni utente può effettuare ricerche per parole singole o in modalità avanzata. Ogni indirizzo è georeferenziato su una mappa da dove è possibile elaborare il percorso in auto con i mezzi o a piedi. Guida Piemonte è anche una app disponibile per Apple e Android.